Ciao a tutti, il tutorial di oggi è un face paint batman, sono due opzioni, iniziamo con quella più facile, più semplice e avremo bisogno soltanto di un colore nero, io utilizzo uno a base di acqua e un pennello può essere un pennello numero 3 o numero 4, basta che sia puntito, inizio facendo un cerchio in mezzo alla fronte e poi un puntino al centro del naso, faccio un zoom e vado a fare due punti, un sopra la metà della sopracciglia e l'altro quando finisce le sopracciglia un po' più in alto, poi faccio nell'altesa del centro dell'orecchio vado a collegare i punti sulla fronte in forma di un ombrello invertito e adesso salgo nel punto del naso e collego tutto, faccio la stessa cosa dell'altro lato poi vado a riempire tutto con il nero, posso utilizzare tanto il pennello, quello stesso pennello o un altro più grosso adesso prendo un pennello più sottile e vado a sistemare tutti i dettagli quando avete tanta manualità potete fare tutto con un unico pennello, però all'inizio dovete fare così le ragazze del mio canale mi hanno chiesto tantissimo questo tutorial perché si può fare anche con un eyeliner in gel ed è vero, e viene bellissimo facciamo le orecchie del nostro pipistrello e mettiamo un po' di glitter nero sul trucco per dare un tocco speciale ed è pronto opzione numero due che non è difficile assolutamente andiamo a prendere un split cake e un pennello apposta andiamo a bagnare il colore e a prelevare col pennello poi mettiamo sulla fronte e prima che si asciughi metto i brillantini adesso facciamo la stessa cosa della prima mascherina con la differenza che facciamo i puntini anche sotto l'ultimo puntino metto sul centro del naso e di là parto per fare il disegno prima passo sopra le sopracciglia e poi passo dentro all'interno facendo come un occhiale ragazzi questo è il metodo più facile e veloce vi garantisco e poi andiamo a collegare i punti sempre a forma di ombrello invertito metto un ombrellino in più lì vicino alla testa del pipistrello e poi collego tutto e riempio questo non sarà il batman più bello ma sicuramente è uno dei più funzionali perché non serve se vi faccio vedere una cosa streptosa che poi quando sarete lì all'opera dovete fare una cosa veloce e non ce la fate no? poi ci sono delle cose bellissime ma che quando hai praticamente 20 bambini in coda che urlano che vogliono essere truccati non hai tempo di fare questo sicuramente farà tutta la differenza con un altro pennello sottile disegno i dettagli i pipistrelli più piccoli metto i punti di luce con la tinta bianca col colore bianco con un pennello della sfumatura vado a mettere un po' di ombretto nero per rendere il trucco più realistico più tridimensionale logicamente il trucco è già finito così questo è un opzionale nell'opzionale perdonatemi il gioco di parole questo è tutto e spero che vi sia piaciuto il video iscrivetevi al canale per più videos e ci vediamo alla prossima un bacione Dio vi benedica ah lasciate i vostri commenti sotto il video perché io amo leggerli ciao